Pasquale Fusco libero di questa centrale McDonald's e Brescia, quattro vittorie importanti contro le squadre che dovevate battere, missione compiuta, oggi partita rognosissima con tanti errori da una parte all'altra, però nei finali di set è messa la squadra probabilmente migliore in campo. Sì, diciamo che questi errori da una parte all'altra sono dovuti anche dal continuo rallentamento da parte del videocheck, comunque raffreddarsi anche solo un attimo dà sempre noia, poi noi abbiamo avuto delle assenze forse in settimana, ci siamo allenati un po' in modo discontinuo, però poi abbiamo fatto vedere che quando ritorniamo tutti insieme come una squadra, come nei finali dei set, abbiamo portato a casa una bella vittoria.